Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come Sembrerebbe tutto pronto per l'isola dei famosi 2023. Nuova edizione, nuova e la riblasi Lo scorso anno ha rappresentato una rivoluzione di vita per lei, fresca di separazione da Francesco Totti e del suo nuovo amore Bastian Muller. Grazie ad Agospi è uscito un altro naufrago e un problema con i vertici Mediaset. Confermato, infine, Alvin in qualità di inviato, nonostante le indiscrezioni sulla lite con Ilari Blasi Vladimir Luxuri ha riconfermato opinionista, visto il successo dello scorso anno, e, al posto di Nicola Savino, Enrico Papi Per Mediaset ci sarebbe un problema, riguarda il cast dell'Isola dei famosi 2023 Cosa succederà? L'Isola dei famosi 2023, i dubbi di Mediaset sui concorrenti Secondo quanto riportato da Ivan Rota sul portale, mancherebbe ancora una sorpresa sui naufraghi Al già nutrito cast dell'Isola dei famosi, dove di famosi ce ne sono pochi a parte Alessandro Cecchi Paone e Marco Predolin, pare si vada a aggiungere l'asso nella manica sino a questo momento nascosto a tutti Si fa il nome di Karin Clary, l'attrice che tutti ricordiamo nel film erotico Istuardo, si legge sul web So finiti i sordi. Dalla fu suor Cristina al noto fashion blogger Gian Maria Sainato al prezzemolone Cecchi Paone col baby fidanzato Il cast dell'Isola dei, presunti, famosi sta agitando i vertici del biscione Troppi sconosciuti e rischio di trash, dopo le polemiche per il grande fratello VIP Ilari Blasi riuscirà ad evitare il rischio Titanic? A non saperlo, ciò che affliggerebbe i piani alti di Mediaset Ce la faranno i nostri eroi? Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale e fare clic sull'icona della campana per ricevere aggiornamenti da me Arrivederci, al prossimo video Grazie a tutti Grazie a tutti